Buongiorno Ti devo far annunciare Buongiorno, me l'hai chiamato lei, vero? Si, è vero che aspetta una persona, ma... Già, me... Lei? Ma non mi dica che... Indominato, il mio nome in codice è 00 00? Ma 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 lo sai che c'è? E' arrivato 00, è arrivato per davvero Vuoi far fuori il signor Ram? Il signor Ram? Signore, è arrivato il muratore Deve assolutamente dipingere questa parete E come mai? Ma che cos'è quello là? Ma vedi, ti deve insegnarci il pennarello Oh, d'accordo Spero soltanto che non faccia troppo rumore No, no, non si preoccupi, non sentirà nulla Allora, con il permesso dei signori io andrei Mi raccomando, per qualsiasi cosa non avete che da chiamare Avvio Era una notte buia Ma l'ho scritto un po' Ma l'ho scritto un po' Ma l'ho scritto un po' Ma che cos'è nessuno Le anyiญати